Buongiorno a tutti, oggi si troviamo alla chiesa di San Nicolò, a Cercena di Razzano. Abbiamo un concerto di quattro campane, adesso ascoltiamo suonare per mezzogiorno. Quindi fra un tempo posso vedere, questo è il campanone, questa è la chiesa di Razzano, grazie al sonnello piccolo. Adesso ascolteremo il battiore sul campanone, poi la gistessa del campanone. Quindi a presto da Edo Aldo Campanaro 2008 e buona scottura a tutti. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.